Benvenuti in questo mio nuovo video Allora, non è portato un po' perché Questo Telecamera che sto usando adesso per recitare Questo, imprecisamente È la mia che lagga Sempre, la mia è quella che uso all'inizio È rotta e questa Non ho fatto anche l'orecchino Ma altra scena, altra cosa La telecamera che uso sempre Lagga, lagga un botto, lagga Tipo, quindi io questa ho fatto una prova Parecchio anno Tempo fa Che più di dieci minuti non può fare, se non lagga Ora proveremo a fare un video in dieci minuti Allora, perché sono qua? Non per dirvi E parlarvi di tecnologia E di telecamere che laggano sempre Ma parlarvi di un video particolarissimo Che non posso farvi vedere Forse 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 No, posso Andate sul mio canale e lo troverete comunque in descrizione Non lo lascio Sì E il video si intitola Tavola Wisha Se sei lucifero È stato un video più o meno di Non lo so Qualche mese fa Qualche Non un mese Un anno fa La cosa Che più mi ha sconvolto Che ieri ho visto Perché io il mio canale lo controllo Sì sì qualche volta Ma ieri ho aperto il mio canale Ho visto quel video 120 Visuazioni Siamo arrivati a 120 Visu Ogni un anno Ogni un anno Ragazzi per questo Per l'occasione Voglio festeggiare con voi Non so Ecco con queste qua Mi accendiamo una Festeggeremo Faremo il bordello Il casino Non lo so Cosa faremo Sarà meglio poco Educativo Per dirvi che se Volete ottenere una cosa Potete farlo Mi avete fatto Riventare Quello che sono oggi Partito dal principio Che Avere un canale È un casino Ma Mi avete fatto riventare Quello che oggi sono Riventato Quello che oggi sono E quei 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 Mille Quei 100 Mille Quei 100 Video Visuazioni In quel video Che ho fatto Un anno fa Ragazzi Accendiamone uno Cantate tutti Come Mi ho preso Due assieme Vabbè Due assieme Che abbiamo paura Se non ci siete D'accenderli Sarebbe Una buona cosa Guarda la botana Happy Nuove 120 Visual 120 Visual 120 Visual 120 Visual 120 Visual Non vengono Tutti i giorni Sei un grande Sei un grande Sì 120 Visual Non vengono Tutti i giorni Per me in questo caso 120 visual Vi dico un mondo di bene Ne accenderemo altri due La fine Per festeggiare Ma adesso Il crimine Visto che non mi bastava Festeggiare con le sterline Useremo anche Coca Cola e Mento Se festeggeremo col botto Perché 120 Visual In un anno Io veramente Vi voglio Vi voglio un mondo Sacco di bene Vi voglio sempre bene Vi voglio sempre bene Per sempre ragazzi Siete la mia famiglia La mia Family Virtuale Consapevoli che sto per sporcare Metta casa Sì Brindiamo alle 120 Visual Ho sporcato tutta casa Per festeggiare 120 visual Sì Non sono normale Comunque vi indico Di andarmi A seguire Su Instagram Facebook Perché sono gli unici Due sociali Dove adesso interagisco Con voi Parlo Scrivo Questo video Non lo caricherò Forse Non si sa Perché non so neanche Perché questo Come ho detto all'inizio Fa rumori strani Vabbè È la mia telecamera Che lagga un botto Lagga tipo Tantissimo Lagga tipo La vita Quindi non lo so Ma per il resto Facebook Instagram Sono attivi Ragazzi Ho l'orecchino E Un altro messaggio Non fatelo a casa Vi prego Mi sono deficiente Ho qualche problema Forse sì Ma non fatelo a casa Ok E Arriviamo almeno Un totto di like Richiesti Che andremo a festeggiare Questo video Con la nuova telecamera Che vero Lo dirò Di una instastories E come Mega sua persona Indovinate un po' La Ouija Visto che ha vinto Che i 120 mila Gli ha fatti la tavola Ouija La andremo a riprodurre Però Forse Non si sa quando Forse è un'altra cosa Scrivete nei commenti Io Mi sa che qua Mi tocca pulire Pulito per quanto Di dire Pulito a parte Comunque vi ringrazio Non solo per quel video Che ha raggiunto 120 visualizzazioni In un anno Ma vi ringrazio Per le Le 15 Le 18 Anche soltanto Perché aprite un video Perché vedete Una cosa Una faccia nuova Solo per uno sguardo Per una singola cosa Vi adoro Tutti quanti Perché io non avrei mai Raggiunto questo Se non avevi pensato Che voi esistete per me Il mondo ancora Ci crede Che io ce la faccio Di sicuro Io ho raggiunto Più visual Di quante ne vorrò Più avanti Questo non è un messaggio Per dire Ehi Fate youtube Rimetete la pomo Praticamente è un messaggio Per dirvi E insticarvi A capire che Se in una cosa C'è impegno Può esserci anche Il risultato Se in una cosa Non c'è impegno Il risultato Non c'è Quindi A parte l'orecchino Che lo trovo Pantafico E a parte Tutto quello Che vi ho detto In questo video Che vi ho fatto L'esperimento Con la coca cola Abbiamo acceso Delle sterline Abbiamo festeggiato Abbiamo fatto Soprlo delle case Però Il mio messaggio Principale Non fatevi Orecchie Se non volete Non fare Quello che non volete Ma Se volete Ottenere Risultati Il mio messaggio è Se volete ottenere Veramente Qualche risultato Dovete Metterci impegno Senza impegno I risultati Non vengono E solo con l'impegno E con la volontà Che i risultati Vengono Per questo Io non vi ringrazio Soltanto perché Ho raggiunto 120 visual Ma vi ringrazio Anche perché Gli ho raggiunti Grazie all'italiano Gli ho raggiunti Grazie a voi Non grazie a me stesso Ma grazie a voi Che ci credevate in me Ogni giorno Ogni giorno Ogni singolo giorno Anche seppur piccolo Anche seppur grande Avete sempre pensato a me Avete sempre guardato i miei video Avete sempre rispetto con me In compagnia di me Per queste piccole cose Della vita Che è successo viene E per le piccole cose Che noi facciamo Che poi ci sentiamo grandi dentro Io adesso mi sento un po' stupido Perché ho sporcato Metà casa Però questo è un dettaglio Io vi voglio sempre più bene Di quanto ho perso il canale Se questo video Non fosse succedere Sul centro Dovesse Italiano Va bene Torna qui da me Non dovreste essere caricato Su nessun social Perché dovreste laggarmi La camera Che già Lo penso Sento dei passi Forse Qualcuno O beh mi pare Lo so Dicevo Non lo vedrete Però in seguito Anche se lo vedete Lo vedete Domani più o meno Domani Dopodomani In questi giorni Ci sarà un instastories Un instastories Una live Non una live In cui vi aggiornerò Più cose Vi dirò Più aggiornamenti Faremo più cose Più bordello Ma io direi Accendiamo altre due Per festeggiare Dai 120 Non ce ne fanno Tutti i giorni Ne accendiamo Tutte e due assieme E al mio tre Cantiamo tutti Grande XD Dai Grande XD Ce la fai anche te Quest'anno Ti porti a casa 120 Views Più in basso Le mani Più in basso Ho paura No no Non fa paura 120 Views Non si fanno Tutti i giorni Tu sei un grande E grande resterai Ma no Ragazzi Dovete Sempre iscrivervi al canale E mettere sempre Aggiornamenti nuovi Dai Freschezza Innovazione Tutto quello che volete Non dimenticate Non dimenticatevi che 120 views Non si fanno Tutti i giorni Ma Non dimenticatevi anche che Porca puttana Non dimenticatevi anche Che Per aggiungere qualcosa Bisogna essere Voluti Bisogna avere La redizione Da me tutto Non so neanche Se verrà caricato Se mai andrà in onda Ma in ogni caso Siete la mia family E io sono sempre Più pazzo Che mai Per voi Non dimenticatevi che E io sono sempre E io sono sempre E io sono sempre